Buongiorno e benvenuti all'ultimo incontro dedicato alla scapigliatura una generazione contro la mostra di Palazzo delle Paure. Oggi nel nostro terzo percorso esploreremo l'ultima fase del movimento e gli eredi di Tranquillo Cremona e di Daniele Ranzoni che portarono avanti gli ideali, le istanze e lo stile della scapigliatura fino ad arrivare agli eredi più distanti, quelli cioè che traghetteranno la scapigliatura in un contesto completamente nuovo, quello del divisionismo. Cominciamo il nostro racconto dalla partenza per l'Inghilterra di Daniele Ranzoni, partenza dovuta probabilmente anche all'incrinarsi dei rapporti con la famiglia Trubetzkoi o meglio agli incrinarsi della situazione economica e familiare dei Trubetzkoi che cominciano ad avere gravi problemi finanziari, Ada si separerà dal marito e Ranzoni non avrà più un ruolo di tutore per i figli della principessa perché verranno mandati in collegio. Così probabilmente complici anche le relazioni che Daniele Ranzoni molto probabilmente aveva con Ada, Ranzoni viene mandato in Inghilterra, sostenuto proprio da Piotr Trubetzkoi che lo raccomanda ad alcune famiglie inglesi. La parentesi anglosassone di Ranzoni costituisce un momento cardine per la biografia del pittore. Con grandi conoscenze altolocate Ranzoni non fa fatica a diventare il society painter dell'aristocrazia londinese e dell'arta borghesia britannica. Del resto il genere del ritratto è molto apprezzato in Inghilterra dove gode anche di quotazioni artissime. Pensate poi al ruolo che avranno sulla scena inglese artisti come Surgent o anche come il nostro Boldini. Ranzoni guadagna bene ma non è felice. Considerando il carattere dell'artista, il suo bisogno di avere amici, di stare in società, possiamo anche capire quanto stile gli sembrasse l'Inghilterra. Tra l'altro Ranzoni non conosceva l'inglese e dunque non poteva parlare con i suoi simili, definiamoli così, ma poteva soltanto rivolgersi e avere una conversazione con quegli rampolli delle classi alte che avevano studiato italiano che era considerato una lingua fondamentale per la formazione culturale di una persona dell'alta società. A dispetto del grande successo raccolto dalla committenza privata, Ranzoni non ottiene mai dei riconoscimenti da parte degli ambienti ufficiali inglesi. La Royal Academy, con Fradley Clayton come presidente, rifiuta i lavori proposti da Ranzoni per la mostra annuale della Royal Academy e giudicandoli troppo liberi, troppo non finiti. L'Inghilterra del resto stava plasmando il proprio gusto sulle teorie di John Ruskin, il critico d'arte che rese grandi per i raffaelliti e che si scontrò fino all'aule del tribunale con Weasler. Si stava dirigendo cioè l'Inghilterra verso una pittura attenta al dettaglio, in opposizione al non finito, proprio al non finito che invece Weasler stava proponendo in quegli anni. Così a prendere il posto di Ranzoni come society portraitist saranno di via breve appunto gli artisti che vi citavo, Boldini, Surgeon. L'esperienza inglese aggiunge poco alla poetica di Ranzoni, forse un approfondimento dell'acquerello che è una tecnica che in Inghilterra è molto diffusa ma poco o nulla dal punto di vista stilistico. Disilluso, depresso, l'artista rientra in Italia dove però trova una situazione molto cambiata. Nel 1878 è morto Tranquillo Cremona, probabilmente intossicato dal bianco dei suoi colori che usava a spalmarsi sulle braccia per pulire il pennello o forse semplicemente per un attacco di peritonite. Certo è che per Daniele Ranzoni la perdita di Tranquillo Cremona è un fatto molto grave. Cremona era per lui un riferimento anche umano, non soltanto un riferimento pittorico e artistico. Ma quando torna in Italia Ranzoni trova molto cambiato anche l'amico Giuseppe Grandi che è impegnatissimo nella realizzazione del suo monumento alle cinque giornate che lo assorbirà di fatto per tutto il tempo negli ultimi anni della sua vita. Milano non è più la stessa, persino la sua intra, la sua città natale sembra diversa e nonostante l'ottimo successo riscosso all'esposizione di Brera del 1880 dove porta 11 ritratti che confermano la sua fama raccogliendo anche un certo plauso dal pubblico. Ranzoni entra in una crisi personale lunghissima, una crisi figlia di un male di vivere di cui era affetto fin dalla gioventù. Colpito da depressione, nevrastenie ipocondriaca viene preso in giro anche dagli amici più intimi che ne deridono le fissazioni senza peraltro accorgersi della gravità della sua forma più patologica. Dopo il 1882 Ranzoni si abbandona progressivamente agli eccessi dell'alcol, della caffeina. La Sarfatti sosteneva che egli bevesse 30 tazze di caffè al giorno. Questo stato di crisi profonda non pregiudicherà la produzione del pittore ma anzi è proprio in questo momento che Ranzoni produrrà alcuni dei suoi più grandi capolavori tra i quali ad esempio la giovinetta inglese, l'opera che abbiamo voluto usare come locandina della nostra esposizione. Un'opera straordinaria quanto a intensità che ben rappresenta la produzione dell'ultimo Ranzoni. Guardate l'intensità dello sguardo, quel gesto un po' manierato ma certamente imbarazzato della giovinetta, definita giovinetta inglese anche se in realtà fu dipinta in Italia e non in Inghilterra. Guardate come si rifletta in questa immagine femminile il carattere della donna ritratta senza dubbio ma anche il disagio, l'inquietudine del pittore che ha realizzato il dipinto. Ranzoni ha questa magia, riesce a definire la psicologia del personaggio che ritrae e nello stesso tempo a raccontarci di sé e a mettere il proprio stato d'animo nel dipinto. Il 23 marzo del 1885 Ranzoni viene ricoverato all'ospedale psichiatrico di Novara. Le cartelle cliniche della sua degenza non esistono più ma non è difficile, date le condizioni dei manicomi dell'epoca, immaginare la drammaticità di questa esperienza. Il ricovero non è voluto dalla famiglia Ranzoni, è sollecitato dal comune di Intra perché Ranzoni aveva avuto degli atteggiamenti scandalosi in pubblico e così era stato denunciato. I giornali e le cronache ne parlano descrivendo Ranzoni come un maniaco, un demente e quando viene dimesso, poche settimane dopo, già il 6 maggio è a casa, l'artista cerca faticosamente di ritrovare la propria serenità frequentando gli ambienti culturali fertili di una donna straordinaria di cui abbiamo fatto c'è nello scorso incontro la Saint-Léger alle isole Brissago. Antonietta Saint-Léger sarà la sua nuova mecenate, la donna che di nuovo lo proteggerà e lo salverà, ma non basta la presenza della Saint-Léger nella vita di Ranzoni, nemmeno la sua accoglienza riesce a curare il mal di vivere profondo dell'artista. Nell'86 torna a Intra e piomba in uno stato di solitudine e di depressione. Anche la famiglia ormai pare non sostenerlo più, come invece aveva fatto in passato. Lui vive al caffè Verbano, un locale sul lungo lago di proprietà di suo cugino, e lì si lascia morire. Con la morte di Ranzoni il testimone passa definitivamente nelle mani di Luigi Conconi, di cui noi abbiamo già avuto modo di parlare nello scorso incontro. E approfitterei di questo passaggio diciamo generazionale anche per sottolineare che in questi anni, cioè negli anni 80 dell'Ottocento, dopo la morte di Tranquillo Cremona, noi possiamo già comodamente parlare di un parallelo con la pittura impressionista francese. Perché là dove diciamo in Italia, in Lombardia, si stava sviluppando la scapigliatura, nello stesso identico periodo, Monet e compagni stavano cominciando a realizzare le loro prime opere e le loro prime esposizioni a Parigi. Vi ricordo che la prima esposizione impressionista è del 74 e di conseguenza da quel momento in poi noi dobbiamo cominciare a fare i conti con lo stile impressionista che apparentemente potrebbe ricordare quello scapigliato, pennellata franta, tocco dinamico, ma in realtà ha ben poco a che spartire con la scapigliatura per non dire che non ha nulla a che spartire con la scapigliatura. Guardando questo dipinto di Luigi Conconi, i ragazzi in giardino, questi due bambini in giardino, la tentazione di paragonarlo a dipinti en plein air con le figure nel paesaggio di Renoir è molto forte, ma in realtà i due dipinti nascono da istanze completamente diverse. In realtà dobbiamo sottolineare una cosa fondamentale che troppo spesso ci si dimentica. Noi oggi diamo gli impressionisti per scontati, sono tra i movimenti pittorici più famosi e acclamati dell'universo e dunque per noi gli impressionisti sono una condizione, diciamo un punto di paragone necessario per qualsiasi cosa avvenga nella seconda metà dell'Ottocento. Ma è un punto di vista sostanzialmente sbagliato perché quando Monet e Renoir cominciano a dipingere certamente non hanno il plauso del pubblico ma neanche della critica, anzi sappiamo bene quali furono le difficoltà estreme che gli impressionisti incontrarono nell'affermare il loro nuovo stile, il loro nuovo linguaggio. Ed è altamente improbabile che artisti italiani potessero avere l'eco delle novità impressioniste piuttosto che invece continuare a guardare la Francia attraverso i grandi nomi dell'Accademia ma soprattutto della pittura borghese. Non ci dimentichiamo che quando gli impressionisti fecero la loro prima esposizione chiamarono il nostro Giuseppe De Nittis perché volevano un nome famoso e oggi fa abbastanza sorridere questa cosa no ma per il tempo invece fu un episodio sostanziale cioè Degas propose di chiamare De Nittis perché artista italiano trapiantato a Parigi molto amato dal pubblico e dunque la presenza di De Nittis nelle schiere degli impressionisti avrebbe evitato che la prima mostra degli impressionisti fosse bollata come la mostra dei falliti di coloro che non andavano da nessuna parte di coloro che non piacevano a nessuno. Dunque non pensiamo che l'impressionismo nasca e immediatamente diventi un punto di riferimento per gli artisti del tempo questo succede più avanti direi negli anni 80 comodamente con qualche eccezione perché Manet e Degas vennero a Firenze vennero a Roma e dunque conobbero anche artisti locali insomma mi sembra che l'incidenza di Manet e Degas ad esempio sui macchiaioli possa esistere anzi esista ed è reciproca ma sulla scena lombarda abbiamo visto che il riferimento è più anglosassone che francese. Il punto però al di là di tutto ciò è che gli impressionisti per dipingere i loro quadri partono da una questione percettiva partono dal vero e intendono catturare il vero percettivamente come il nostro occhio lo cattura guardando le figure nel paesaggio soprattutto nel caso dei pittori dalla pennellata franta che sono quelle che interessano a noi no da questa pennellata vibrante che potrebbe allontanamente ricordare quella dei nostri scappigliati. La questione di vibrare la pennellata così di lasciarla non finita di lasciarla di tocco rapida e dinamica è dovuta alla volontà di riprodurre sulla tela il vero ottico il vero retinico come facevano i nostri macchiaioli cioè il fatto di catturare un'immediatezza un'intuizione un'impressione per l'appunto del vero sulla tela in un attimo di vita. I scappigliati non facevano nulla di simile anzi abbiamo visto come costruissero i loro dipinti in studio e come spesso ci fossero diciamo intenzioni di racconto nelle loro opere un racconto quotidiano un racconto ironico un racconto psicologico ma certamente non un fatto ottico retinico tranquillo cremona dipingeva a volte in giardino ma dipingeva in giardino perché nel suo studio c'era troppo caos e non sapeva dove mettersi a dipingere quindi si metteva in cortile non perché fosse in qualche modo interessato al plein air la luce negli impressionisti è quella del vero la luce negli scappigliati è un fattore emotivo ranzoni cremona usano la luce per accentuare e questioni emozionali intuizioni psicologiche o racconti intimi e introspettivi quindi ci sono due punti di vista profondamente diversi di partenza che rendono anche molto diversi poi gli esiti piuttosto bisogna interessarsi ai rapporti tra gli scappigliati e il futuro diciamo il cosiddetto post impressionismo e le generazioni che noi definiamo impressionismo italiano una definizione sbagliatissima secondo me come ad esempio i paesagisti lombardi alla genius noi sappiamo che genius fu anche vicino di casa di tranquillo cremona che addirittura dipinse il suo ritratto e dipinse probabilmente per lui anche alcuni sfondi dunque genius che è definito uno di quegli impressionisti italiani in realtà il termine impressionismo italiano è un termine da evitare assolutamente l'impressionismo è francese è quello di monere noire quella cosa lì quindi è inutile tentare di creare degli impressionismi internazionali sì forse usando la i minuscola ecco c'è l'impressionismo americano l'impressionismo russo ma se noi usiamo la parola impressionismo come movimento come usiamo scapigliatura ecco no allora lì non possiamo certo spendere questo termine per artisti come genius che comunque hanno dalla loro genius gola insomma questo tipo di paesaggisti di pittori hanno dalla loro un'intenzione ample nero un'intenzione davvero un racconto della natura del paesaggio che è sicuramente più vicina agli esiti francesi di quella appunto della scapigliatura con questa generazione questo passaggio di testimone arriva fino ai divisionisti non ci dimentichiamo che vittore grubissi de dragoni il grande critico teorico pittore gallerista dei divisionisti tenterà negli anni a venire appunto dopo la scomparsa dei grandi protagonisti di prolungare la stagione scapigliata anche quando di fatto questa potrà considerarsi già conclusa in tutta evidenza dal grembo di questo movimento nascono artisti dalle personalità molto forti e questo in dubbio segantini dopo vedremo previati gola medardo rosso hanno avuto esordi scapigliati sono cresciuti nell'alveo della scapigliatura proviamo a vedere adesso insieme quindi chi sono questi eredi della scapigliatura dai più vicini cioè dai cosiddetti cremoniani fino appunto a quelle generazioni come segantini come previati o come medardo rosso che conducono poi il tema scapigliato verso mondi completamente nuovi e contemporanei subito dopo la morte di tranquillo cremona fu organizzata un'esposizione nessuna delle grandi istituzioni artistiche milanesi aveva intenzione di accoglierla e quindi venne esposta alla scala e non avendo la possibilità di appendere i quadri alle pareti si optò per dei cavalletti su cui vennero esposti i quadri più famosi dell'artista complice anche questa esposizione numerosi pittori cominciano a rivolgersi a cremona come a un esempio come a un maestro già da vivo cremona era un riferimento importante molti artisti molti uomini di cultura frequentavano il suo studio e le che frequentava lui per tenerselo vicino per confrontarsi con lui ma dopo la sua morte la sua pittura diventa potremmo dire un codice un modello per pittori come rapetti come ripari come didioni come barbaglia come fontana e molti altri ora i cosiddetti cremoniani sono una realtà evidente riconosciuta anche a quei tempi l'esposizione di brera del 1880 rappresenta un momento cruciale per il riconoscimento di questo movimento pittorico i ritratti di ranzoni vengono esposti e vengono accolti con un certo interesse come vi dicevo da parte del pubblico e della critica e l'anno successivo nel 1881 in parallelo all'importantissima esposizione nazionale dell'industria delle belle arti a milano avviene un altro evento fondamentale per la diffusione della scapigliatura l'indisposizione delle belle arti della famiglia artistica che è ricordata anche da un dipinto famoso di vespasiano bignami che si intitola una seduta del comitato ordinatore della presente indisposizione ed è un'opera che oggi sta alla famiglia artistica appunto di milano nelle collezioni questo dipinto ci deve fare riflettere perché bignami con una ironia di cui adesso parleremo mette in scena di fatto un caos avvenuto durante una seduta del comitato ordinatore di questa straordinaria indisposizione di belle arti che ovviamente faceva il verso all'esposizione nazionale ci sono figure sul lampadario figure perché bevono gente che litiga sedie che volano e tutto questo caos questa provocazione non può non ricordarci i futuristi c'è un legame strettissimo con quello che poi sarà l'avanguardia futurista negli atteggiamenti provocatori di rottura un po rissosi bohemian degli scapigliati e su questo torneremo perché è un elemento fondamentale che di nuovo sottolinea che la scapigliatura non è un movimento così relativo a uno spazio tempo abbastanza ristretto ma segna invece un percorso che verrà poi transitato da artisti del futuro molto importanti il racconto dell'indisposizione di belle arti ci porta a parlare di vespasiano bignami che rappresenta un po potremmo dire il versante antiretorico e burlesco della scapigliatura e dopo la morte di cremona con con coni sicuramente bignami assume un po il ruolo di secondo caposcuola delle schiere scapigliate dietro a questa sua attitudine molto scherzosa bignami in realtà nasconde una personalità seria di impegno politico sociale attentissimo alla volontà di rinnovamento delle arti di rinnovamento del sistema bignami è uno di quegli artisti che pensa che l'arte debba anche essere utile e si debba applicare alla società che la genera spettio della profonda crisi attraversata dall'italia dopo l'unificazione una crisi di cui abbiamo già parlato le attività di bignami nascono proprio dall'esigenza anche di un'opposizione politica nel 1867 bignami si era contro il governo e scrive che deplora le transazioni di crespi non l'idea monarchica idea che ha trascinato fino all'odierna alleanza con rattazzi alleanza che egli crede un trionfo e io considero l'abbraccio di un serpente dunque bignami si colloca un po in un diciamo in un ruolo di rottura in un ruolo ribelle anche dal punto di vista della situazione politica della penisola bignami considera gli artisti come una parte indispensabile del processo di un cambiamento sociale e culturale soprattutto in una città come milano una città che è vivace attiva ma è in fondo ancora in cerca di un ruolo nell'italia appena unificata quando il giorno di sabato grasso del 1872 la società degli artisti non annulla una festa in maschera e nonostante in quel giorno si tengano i funerali di mazzini bignami decide che deve è venuto il momento di creare un'alternativa a questa vecchia istituzione ormai priva di senso e fonda lui stesso una società artistica autonoma nasce così la famiglia artistica che era un'associazione che si occupava di promozione artistica di organizzazione di mostre di conferenze con personaggi importanti del tempo ma anche del diritto d'autore della protezione del diritto degli artisti quindi è un'associazione che si colloca profondamente nel tessuto sociale e culturale della città del tempo la famiglia artistica si procura anche ad esempio di far conoscere gli artisti italiani all'estero promuove le loro attività organizza mostre importanti per appunto divulgare la loro opera invita personaggi come giuseppe verdi ad esempio a parlare a raccontare del proprio percorso quindi è un centro culturale straordinario a cui aderirono molti nomi del tempo fra cui anche appunto vittorio e griubissi che fu molto vicino a questi ambienti da cui apprese anche la grandezza della scapigliatura lui fu uno dei più grandi sostenitori di tranquillo cremona e provò a importare la scapigliatura anche all'estero gli acquerelli soprattutto di cremona e di ranzoni vennero promossi anche dal punto di vista commerciale da vittore griubissi de dragonna molti degli artisti che partecipavano alla famiglia artistica erano anche presenti all'esposizione ufficiale e questo è anche significativo cioè c'è una volontà di rottura che trascende il fatto di essere o meno accettati no dagli schiere dell'ufficialità e questo chiaramente aumentava anche la curiosità del pubblico che andava all'esposizione nazionale quella ufficiale quella importante e poi però voleva vedere che cosa avevano combinato nell'indisposizione i medesimi artisti e naturalmente tutti i quadri avevano una carica sovversiva notevole erano ironici di soggetti inriverenti e come catalogo il bignami fece un libretto il libro d'oro dell'indisposizione di belle arti che raccontava sempre in toni enfatici e burleschi quello che stava succedendo all'interno dell'esposizione a proposito di vespasiano bignami voglio sottolineare anche la presenza di bignami nel territorio lecchese perché visto che la mostra una generazione contro sta proprio palazzo delle paure alecco e ci è parso giusto anche nel catalogo con un saggio di barbara catani e lorenzo messina parlare di questa diffusione importante del movimento scapigliato nell'area lecchese nel saggio che vi citavo si racconta anche un episodio interessantissimo a mio avviso che riguarda vespasiano bignami per capire proprio la situazione ma anche in qualche modo la l'innovazione la modernità dell'idea scapigliata la scapigliatura nelle chese si trova soprattutto a maggianico nella frazione di barco che era un luogo dove ghislanzoni era nato e dove aveva portato appunto antonio ghislanzoni grande librettista che si scrisse il libretto dell'aida aveva portato molti personaggi dell'intelligenza scapigliata a risiedere in particolare frequentavano l'albergo di giuseppe invernizi che era detto davide che era il sindaco di barco che aveva cominciato ad accogliere nelle sale dell'albergo personaggi del calibro di petrella di gomez di ponchielli oltre che due artisti bignami e roberto fontana i due decidono così di affrescare la parete la facciata interna dell'albergo con una rappresentazione dell'allegoria diciamo dell'allegria che realizza fontana e un mangiatore di polenta un po più realistico un po più triviale invece è fatto da bignami ma la cosa straordinaria fu l'inaugurazione perché gli artisti invitarono i presenti il pubblico i critici a dire sinceramente che cosa pensavano delle loro opere ma poi esposero delle figure di un armato diciamo un uomo armato in con la scura in mano e accanto a lui le pelli dei critici che avevano osato criticare il loro lavoro naturalmente poi tutto si conclude con l'incoronazione di davide nominato re dagli stessi artisti su cui appunto sul suo capo viene posto una corona di alloro e si celebra la definitiva glorificazione di davide e degli artisti che in questo caso erano artisti che resistevano stoicamente alle critiche e che quindi potevano continuare nel loro lavoro di rottura ecco citato questo episodio un po particolare ma è perché è particolarmente gustoso e devo dire anche interessante nelle relazioni con poi quello che sarà il futuro no quello che saranno le attività performative anche dei futuristi ma bisogna ricordare che comunque molti scapigliati frequentarono l'ecco in questi anni di slanzoni inizia a collaborare con gomez per il libretto della fosca e durante il periodo della costruzione della sua villa brasilia a maggianico era spesso da quelle parti i ripetuti fiaschi della fosca lo convincono a rientrare in patria quindi gomez torna in brasile e vende la villa che non poteva più permettersi mentre poi tra il 69 e 72 permangono in area lecchese petrelle ponchielli che abitano tra barco e la villa del caleotto che era anche l'antica dimora di manzoni c'è quindi una vitalità no un'attività interessantissima da parte degli scapigliati nell'area lecchese non ci dimentichiamo naturalmente l'importanza di manzoni che un po come haiez per i pittori per gli scrittori scapigliati era il padre da superare insomma nessuno si sarebbe mai sognato di criticare manzoni ma gli scrittori scapigliati sappiamo bene che si dirigevano verso tutt'altro tipo di scrittura verso tutt'altro tipo di prosa pur ottenendo manzoni ovviamente come riferimento come padre inarrivabile e diciamo che non si può ignorare ma al di là della presenza appunto della famiglia artistica che poi il centro no in cui si riunirono diciamo così l'intelligenza scapigliata ci furono moltissimi pittori che anche autonomamente guardarono con grandi interesse a tranquillo cremona tranquillo cremona viene subito identificato come capostipite vi dicevo riconosciuto come scuola anche dai critici del tempo i cosiddetti cremoniani sono una realtà che anche gli scritti del tempo vedono con chiarezza la definizione fa riferimento non soltanto allo stile pittorico ma anche alla scelta dei soggetti che sono ovviamente molto codificati anzi spesso sono propri soggetti a rendere chiara questa discendenza no questa eredità in mostra ci sono vari esempi di questo tipo uno molto interessante è al balcone detto anche i curiosi di camillo rapetti questa è una copia di una delle sovrapporte per villa ponti avarise che aveva realizzato cremona poi l'opera di cremona era andata distrutta ed era stata copiata da daniele ranzoni prima della sua distruzione nell'originale aveva posato per la figura di destra l'amico alfredo catalani quella di rapetti quindi è una copia della copia e realizzata nel 1879 assume anche un significato un valore notevole perché è stata fatta proprio l'anno dopo della morte di cremona quasi fosse un doppio omaggio ai due grandi maestri scapigliati ma anche lo scialle di rapetti sempre esposto in mostra deriva da un originale di cremona il costume di sarzana nel 73 così come il bellissimo sorriso di conconi riprende un quadro omonimo di cremona al quale è talmente affine veramente che quasi potrebbe venire la tentazione di attribuirlo al maestro e non al suo seguace ma allargando lo sguardo noi troviamo anche delle situazioni di reiterazione di soggetti iconografici talmente espliciti da costituire veramente un motivo di riflessione per esempio guardate le due confidenze esposte in mostra si tratta di due opere assolutamente affini nel soggetto una firmata da cavalli e l'altra firmata da rapetti è ovvio che entrambe prendono come modello probabilmente un unico dipinto perché le due figurine della coppia amorosa beh il soggetto è un soggetto che insomma voglio dire è molto diffuso no nell'iconografia del tempo ma la costruzione del dipinto l'ambientazione è troppo simile per poter essere un caso che questi due dipinti si somiglino così tanto si deduce si presume che ci sia un originale di tranquillo cremona in effetti c'è un originale di tranquillo cremona un originale che è stato messo in dubbio come attribuzione ma che di fatto i due quadri presenti confermerebbero invece in quanto se questi due dipinti sono in qualche modo discesi da un originale allora quello originale dovrebbe essere proprio quello del maestro di tranquillo cremona che esiste anche se non è stato esposto in mostra questa reiterazione dei soggetti avviene in generale non solo per cremona per esempio c'è il caso della preghiera di ranzoni messa a paragone con la preghiera di giuliano che in questo caso non c'è una discendenza diretta ed entrambi probabilmente dipendono da quadri del bertini che spesso aveva ritratto figure di questo genere ma vedete quanta somiglianza quanta vicinanza c'è fra questi due soggetti perché i temi codici iconografici si venivano reiterati spesso volentieri e cremoniani fanno proprio questo prendono temi iconografie del maestro nella loro originalità perché abbiamo visto come il questione del duetto amoroso della vita intima quotidiana di queste figure no un po così raccontate nella loro nel loro sentimento la poetica dell'intimità è chiaramente molto originale rispetto a quello che proponeva mediamente la scena artistica italiana e accademica soprattutto del tempo ecco dunque che queste queste iconografie diventano dei codici sono quelli che poi permettono alla scapigliatura di generare una serie di altri pittori che alcuni anche tecnicamente stilisticamente altri invece in maniera più libera meno codificata ripetono la tecnica scapigliata probabilmente anche svuotandola un po forse l'unico che davvero coglie la scapigliatura e riesce a interpretarla in maniera del tutto personale è con coni di cui più volte si è detto che è stato vicinissimo a cremona abbiamo visto il sorriso quasi veramente un cremona diciamo to cure ma in realtà con un'evoluzione piuttosto rapida con coni poi è passato da essere emulo di cremona a essere luigi con coni cioè la sua personalità gli permette di prendere cremona restare nell'alveo del suo esempio ma tradurlo poi con opere di grande personalità con coni vandrà verso accenti di modernità notevoli abbiamo visto anche qualche influenza del nouveau nella sua pittura no e aprendosi e soprattutto alla fine del secolo a quegli stili a quei gusti che sono già inizio secolo no sono già novecenteschi è chiaro poi e questo purtroppo è un discorso che è inevitabile fare no che se noi mettiamo a paragone quanto dipingevano questi artisti inizio novecento con quanto dipingeva nello stesso periodo picasso o matisse o anche per andare un po più indietro toulouse lutrec è chiaro che noi ci troviamo a fare i conti con un disorientante no permanenza di stilemi ottocenteschi nella pittura tutti i cremoniani proseguono su questo questa tendenza ottocentesca anche alle soglie poi del novecento anche con opere datate già inizio secolo è chiaro che noi non dobbiamo assolutamente fare il paragone con le nuove generazioni avanguardiste no non dobbiamo fare il paragone con picasso che nel sette dipingere da moselle d'avignon ecco è sbagliato già di per sé pensare che l'onda avanguardista che travolgerà fortissima l'italia no e l'europa tutta più l'europa che l'italia ma anche in italia coi futuristi decisamente la presenza avanguardista c'è dunque non possiamo pensare che questa travolgente onda riguardi tutto il sistema artistico pensiamo piuttosto al fatto che in italia il futurismo l'avanguardia italiana per eccellenza affonda le radici nel divisionismo e nella scapigliatura perché abbiamo visto appunto quel dipinto di Vispasiano Bignamico dell'indisposizione nella mentalità no nell'attitudine nell'atteggiamento ma dobbiamo anche ricordarci come i futuristi lavorino sul movimento sulla dinamicità sulle rappresentazioni no della della simultaneità divisione e del movimento sulla tela non è che gli scapigliati lo sapessero una cosa del tutto inconscia ma certe pennellate dinamiche di tranquillo cremona no dei grandi scapigliati in realtà certe riflessioni fatte dagli scapigliati saranno poi di sostanziale importanza per i futuristi che ovviamente non occorre ricordarlo andarono tutti anche a lezione dai divisionisti perché appunto balla boccioni nacquero tutti nell'alveo o del divisionismo pieno anche tecnicamente o quantomeno del simbolismo pensate ai primi lavori di russolo come sono in quella direzione dunque nessuno nasce da nulla e anche gli avanguardisti traggono importanti ispirazioni da questa generazione del resto tenete presente che le ninfee di Monet sono del 22 voi capite che nel 22 1922 c'era già tutt'altro in Europa c'era già stato da un bel pezzo il quadrato nero di Malievi c'è l'ordinatorio di Duchamp quindi in realtà l'arte era già andata per percorsi completamente differenti ma a noi non deve tanto interessare quello che questo confronto sono delle linee la coda dell'ottocento si esprime nel nord Italia anche attraverso questi seguaci della scapigliatura tra le volte e questo è importante da sottolineare alcuni pittori che non possiamo certo considerare scapigliati hanno aderito in certi elementi alla pittura scapigliata per esempio citavamo prima Gola o Genius entrambi in gioventù furono vicini a Cremone Aranzoni ma c'è un caso in mostra abbastanza eclatante Leuterio Pagliano e Leuterio Pagliano è stato protagonista del dibattito della pittura del vero aveva frequentato il caffè Michelangelo è un artista che al tempo della scapigliatura è già piuttosto maturo per non dire abbastanza anziano quindi in realtà Leuterio Pagliano non è certo un cremoniano ecco non possiamo assolutamente definirlo così eppure nell'ultima fase della sua produzione quando lui ha già più di 60 anni dipinge con un atteggiamento simile a quello della scapigliatura sintomi di scapigliatura si colgono anche in un pittore che non riesco a definire scapigliato che è mose bianchi e anche nella critica del tempo si sottolineavano le differenze fra tranquillo Cremone e mose bianchi eppure anche in mose bianchi qua e là si colgono con grande evidenza accenti scapigliati e sono accenti che sono necessari evidenti e diciamo un po inevitabili visto che questi pittori crescono tutti nell'alveo negli ambienti nel mondo che aveva prodotto anche la scapigliatura ma ci sono delle opere in mostra che raccontano diciamo meglio l'intenzione cremoniana di alcuni artisti guardate ad esempio la Susanna al bagno di Ernesto Fontana allievo come tutti questi di Giuseppe Bertini che si fa interprete con una certa sensibilità un po del versante più intimo malizioso dell'iconografia scapigliata vicinissimo a Cremone anche Roberto Fontana che cresciuto a Brera lavora al fianco di Ranzoni Fontana è molto abile nel ritrarre attimi intimi di vita quotidiana con una dose di compiacimento sentimentale no predilige tavolozze con cromie accese per molti aspetti diverse da quelle del maestro ma vicinissime a lui quanto a scelta dei soggetti e a intenzione cresce a Brera anche Virgilio Ripari che nella cui biografia diciamo abbiamo grosse lacune di questo artista si conosce veramente poco anche se una recente mostra ne ha un po illuminato la figura alcuni aneddoti ci raccontano una vita molto tormentata e in realtà anche in Ripari non c'è certo la pittura l'altezza le sfumature le raffinatezze di Cremona però la sua pittura è molto interessante è assolutamente vicina anche a quella del maestro ma con una sua personalità ma sono vicinissimi a tranquillo Cremona anche Giuseppe Barbaglia che fu molto noto per la sua pittura di interni per i ritratti ma che si concesse anche qualche divagazione diciamo così come testimonia ad esempio il bagno pompeiano in mostra forse però ancora più cremoniano il ragazzo col cane già tardo come datazione ma decisamente interessante come trattazione pittorica allo stesso modo possiamo citare francesco di dioni ma l'eredità scapigliata è evidentissima come vi dicevo anche nelle origini del divisionismo e ora vedremo anche come e perché a ricordare l'importanza della lezione scapigliata sulla formazione degli artisti divisionisti in mostra ci sono due dipinti uno è scalinata di Giovanni Segantini un'opera che è evidentemente collegata a uno dei suoi capolavori molto tormentati dalla gestazione molto complessa dal titolo ammessa prima la scalinata riprodotta nel dipinto è quella della chiesa di Vedugio una cittadina non distante da Pusiano in Brianza dove Segantini appunto abitava e la scalinata molto particolare già di per sé viene osservata dall'artista da un punto di vista piuttosto arbitrario che ne mette in risalto la particolare curvatura vedete in relazione con la chiesa barocca che gli sta sopra è ammessa prima così come tutte le opere di questo primo periodo segantiniano prima cioè di arrivare alla sua pittura più riconoscibile quella della narrazione delle valli alpine e di un uso più spregiudicato ed evidente della tecnica divisionista che comunque Segantini utilizzò sempre in maniera piuttosto autonoma e libera ecco Segantini non fu mai un divisionista tecnico preciso e assuefato totalmente all'utilizzo della diciamo del metodo di divisione della pennellata ma anzi se ne servì quando gli faceva comodo e questo rende il divisionismo di Segantini un divisionismo molto particolare comunque appunto in queste prime opere ma se guardate anche le opere milanesi come la falconiera al ritratto della sua vice bugatti della sua compagna e musa di una vita figura peraltro importantissima per Segantini riconoscete qui addirittura anche nel soggetto ricordiamoci il falconiere di Cremona ma non solo riconoscete il debito importantissimo fondamentale che Segantini ha nei confronti della lezione scapigliata e di quei percorsi che la scapigliatura di fatto aveva aperto allo stesso modo al canto al dipinto di Segantini abbiamo esposto in mostra un ritratto di giovane ragazza di Giuseppe Pellizza da Volpedo ecco la ricerca di Pellizza è più diciamo figlia di spunti più diversi rispetto a quella di Segantini perché conosce anche ad esempio tutta la parte toscana perché Pellizza aveva conosciuto fattori era stato negli ambienti del Michelangelo quindi in realtà aveva un occhio anche in quella direzione e poi Pellizza non ce lo dimentichiamo fu allievo di Cesare Tallone di cui noi abbiamo un'opera esposta in mostra proprio non a caso accanto a quella di Pellizza un pittore che notevolmente riuscì a insegnare il nuovo a un'intera generazione di artisti che gli furono sempre anche molto grati sappiamo ad esempio che Carlo Carrà ricorderà sempre Tallone tra diciamo coloro con cui aveva un debito formativo importantissimo no comunque aveva un'attenzione per ricordare sempre la figura del maestro decisamente notevole allo stesso modo lo ricorderà Pellizza Carra fu allievo di Tallone a Brera Pellizza invece fu allievo di Tallone a Bergamo dove Tallone aveva insegnato per qualche tempo ecco Pellizza sa coniugare questo stile personale riconoscibile frutto di più intuizioni e di intuizioni molto diverse con una tecnica divisionista anche qua molto originale e in Pellizza si diciamo in qualche modo verifica l'incontro altissimo tra l'impegno sociale il tema sociale di opere celeberrime come il quarto stato ma non solo alle atmosfere simboliste che permeano buona parte della produzione del divisionismo tra i motivi di riflessione che stanno alle origini dell'opera di questo artista c'è senza dubbio anche il confronto con la pittura scapigliata in lui più che in Cremona la scapigliatura di Daniele Ranzoni ma non dobbiamo dimenticarci anche l'eredità che la scapigliatura ebbe in scultura grazie al lavoro alla ricerca di grandi tra gli arrivi di grandi o quantomeno gli artisti che gli furono vicini come spirito e che trassero da lui motivi di riflessione importanti per la loro ricerca possiamo ricordarci di bistolfi di bazzaro di pellini e soprattutto naturalmente di paolo trubezcoi paolo trubezcoi era uno dei figli della principessa ada cresciuto sull'insegnamento di Daniele Ranzoni che ebbe su di lui un'influenza fondamentale naturalmente importante fu anche l'allunato da giuseppe grandi trasferitosi a milano nel 1877 con sua madre quando la famiglia trubezcoi appunto versò in situazioni economiche molto gravi e ada si divise dal marito portando paolo e pierre due dei tre figli con sé a milano trubezcoi comincia a frequentare il mondo della famiglia artistica e entra in contatto anche con gli ambienti del socialismo esperienze che gli lasceranno una profonda coscienza civile e una certa sensibilità anche per le tematiche sociali che si riflette anche in parte della sua produzione trubezcoi era vegetariano con grande convinzione e anche questa sua scelta personale si riflette nella selezione dei soggetti per esempio lui amava moltissimo ritrarre animali dimostra ce ne sono ben due che riesce a diciamo così realizzare nella loro istintività nella loro verità lasciando ben ampiamente trasparire l'amore che provava per il mondo animale sul temperamento artistico di trubezcoi senza dubbio ha influito anche la sua origine aristocratica e qual di là di questi suoi interessi sociali l'essere cresciuto in un ambiente elegante cosmopolita aperto alle esperienze internazionali abituato a viaggiare ovviamente produce in lui una un livello di pensiero che ben si adatta anche alle situazioni più eleganti e più diciamo così prestigiose all'estero per esempio trubezcoi ha un grandissimo successo in russia da cui la sua famiglia proveniva in inghilterra o negli stati uniti il paese di origine di sua madre negli stati uniti frequenta douglas fairbanks mary pickford frequenta charlie chaplin e soprattutto trubezcoi ha successo a parigi dove diventa un po' l'artista della buona società con attenzione perché a parigi trubezcoi era decisamente preferito a medardo rosso che invece fece molto più fatica ad affermarsi perché la sua ricerca era molto più complessa difficile e a proposito di medardo rosso è proprio su medardo che si conclude la mostra perché a dispetto della volontà di questo scultore che vuole sempre ha sempre voluto prendere le distanze dalla scapigliatura in realtà la lezione di grandi costituisce anche per lui un momento fondamentale di confronto no un momento di riflessione direi veramente indispensabile per la sua crescita artistica medardo rosso è in mostra con un'opera di straordinaria bellezza una testa di bimbo che ci ricorda in modo straordinario efficacissimo la volontà di medardo rosso di farci dimenticare la materia ecco questo suo essere sospeso tra un mondo simbolista e un mondo assolutamente concreto e questa sua volontà di giocare con la luce con l'ombra lui diceva noi non siamo che scherzi di luce e quindi questa idea che la realtà possa essere rappresentata attraverso giochi di luci e ombre e sostanzialmente di essere in qualche modo artefice di una materia che si fa dimentica di sé e che diventa leggera quasi direi pittorica le sculture di medardo rosso soprattutto nelle cere come quella che sposta in mostra ma ce ne sono alcune anche ancora più estreme gioca proprio con il tocco con la pennellata direi no assolutamente c'è con un concetto vicinissimo a quello che aveva inaugurato giuseppe grandi proprio a fronte del suo confronto personale con cremone con ranzoni cioè quel suo modo di far diventare la pittura scapigliata con le sue istanze nella materia di trasformare la pittura in qualcosa di tridimensionale quella sua ricerca di annullare i contorni viene proprio dalla ricerca di annullare i contorni già di giuseppe grandi è chiaro che poi medardo rosso nella sua vocazione internazionale nella sua genialità nella sua straordinaria personalità supera ovvio di gran lungo no i limiti della ricerca del nostro giuseppe grandi e si pone come uno dei più importanti scultori di fine secolo anzi personalmente lo reputo il più importante scultore di fine secolo forse ancora più importante di rodin la sua modernità anche se non osannato come il notissimo rodin ecco questa sua importanza questa sua unicità deve qualcosa anche alla scapigliatura ambienti in cui lui di fatto è cresciuto e proprio con la personalità di medardo rosso e questo suo piccolo grande capolavoro la mostra si conclude in questo percorso che quindi ci ha accompagnato dagli anni sessanta fino al nuovo secolo e che ci ha raccontato con diciamo grande evidenza e spero con una certa piacevolezza di da parte vostra nell'ascolto e nella fruizione delle opere l'importanza del movimento scapigliato a livello internazionale bene non mi resta che augurarmi che a breve possa riaprire l'esposizione e che possiate andare a vederla personalmente nei begli spazi di palazzo delle paure la mostra sarà certamente prorogata non sappiamo ancora di quanto diciamo ad oggi non è ancora chiaro di quanto anche perché non sappiamo ad oggi quando la mostra riaprirà ma senza dubbio abbiamo avremo occasione di vedere tutte le opere che io vi ho quasi tutte le opere che vi ho mostrato in queste conferenze dal vero vi ricordo che io ho aperto un po la forbice della selezione iconografica scegliendo anche opere che non sono in mostra per rendere più chiaro il discorso ma troverete numerose opere nelle esposte e dunque sarà un'occasione per tornare su questo racconto e su questa straordinaria bellissima devo dire anche dal punto di vista estetico ricerca pittorica e scultoria letteraria e musicale della scapigliatura grazie arrivederci e spero a presto